Oggi facciamo la prima seduta, esercizio a corpo libero. Per la parte addominale, gambe, in particolare faremo affondi, sollevamento bacino, braccia dietro la schiena, sollevare gambe a 45 gradi. E poi altre cose abbastanza provanti. Più importante però il bagno in piscina dopo. Molto concentrato, eccola qua una, è sceso il costume, due, tre. Allora 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 La domanda è siamo a cena o a colazione? O a colazione? Ideali Yogurt, però dall'altra parte c'è la bistecca e tonno. Bistecca, capponzonna. La bistecca aveva la stessa consistenza di questa in fragito. Il problema è che siamo a cena. Sì